di questo gioco. Abbiamo un grande condivisione per Cristiano e per il team professionale. Ma spero di essere calmo. Non come l'anno scorso. L'anno scorso 3 gols. L'anno scorso 2, ma l'anno scorso contro l'anno, non contro l'anno scorso. Mi ricordo molto bene, perché abbiamo giocato un gioco davvero buon gioco. E risolto con la situazione, solo. Sì.